In sostanza lasciamo in mano vostra quelli che saranno gli allievi di domani, in modo che possiate rispondere alla loro domanda con freschezza, visto che siete di là ma un piede ancora quasi ce l'avete di qua. Grazie. Grande piacere anche fra me. Ecco, quindi per presentare Adonato, poi Pietro dovrebbe arrivare adesso, anche perché appunto il ringraziamento è anche per il fatto che si collegano dall'ufficio appena chiuso il lavoro, quindi c'è sempre grande disponibilità in questo senso. Le domande sono un po' probabilmente le stesse che ti sei fatto, che tu Donato, il primo dubbio è se il settore del turismo consente di intraprendere una carriera anche in considerazione di percorsi precedenti molto variegati, che possono sembrare poco in linea. E l'altra domanda è, ma dato il mio percorso precedente, facendo il master, poi dove posso arrivare, che tipo di opportunità mi si offrono e se queste opportunità sarebbero le stesse senza aver intrapreso questo percorso o avendone intrapresi? Chiarissimo. Chiarissimo. Beh, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, che comunque sembra un piacere. Anche questa prima volta mi ritrovo all'altra parte, quindi che veramente è una prima emozione. Poi devo dire che un pochino, io personalmente sicuramente mi sono complicato un pochino la vita per il settore che ho scelto, però poi effettivamente siamo comunque arrivati. Diciamo che posso partire, parto un pochino da dove, allora sono partito con appunto una trennale in turismo a Lucca. Dopo la prima trennale sono andato in Australia, che è lì mi ha un attimo sbloccato, ho visto come ero organizzata le destinazioni. La faccio breve ovviamente, cioè di un pochino e mi è arrivata questa ispirazione del, ma come mai gli riescono a, riescono a connettersi a quelle rete e dove sono io. Ovviamente sono in un piccolo paese in provincia di Chieti, in Abruzzo, non riusciamo a farlo. E da lì è nata un pochino tutta questa passione del destination manager, che mi ha fatto fare la magistrale in valorizzazione dei territori e turismi sostenibili. E poi arrivare poi effettivamente al master. E diciamo che il master mi ha dato una grandissima opportunità di approfondire tantissimi temi per quanto riguarda ciò che mi interessava nel destination manager, come ad esempio la parte più statistica, il posizionamento della destinazione, l'indici di destinazione, o ad esempio anche come fare effettivamente benissimo una customer satisfaction, per esempio. E quindi sì, quindi se attualmente adesso mi trovo, dopo che il master mi ha dato la possibilità di fare un tirocinio, iniziando con ideazione ad Alba, che è praticamente una società, non so, ormai ho citato ma penso che non sia un problema, ma quindi ok, sarebbe appunto questa, principalmente consulenza di destination management, quindi strategia, progettazione. L'ho potuto capire, insomma, vari aspetti e sicuramente grazie a questo primo passo sono riuscito ora a essere dove mi trovo adesso, quindi sono lavoro per una DMO che si chiama Ligure Rivera e attualmente sono responsabile dei prodotti turistici. Sì, si può fare un po' più, io ci voglio un po' più deviata però ci sei arrivato lo stesso, dai. Hai saluto? Hai provato un'altra torre? Scusate che non vi sento. Fai nel concreto. Allora, vi sento malissimo, scusate. Un momento solo Donato, Federica, quando parli tu non si sentiva bene, forse un problema allineamento verso il microfono. Può essere? Adesso è meglio? Molto bene. Ok. Dicevo che loro non sanno che cos'è una DMO, quindi glielo devi spiegare, sei proprio passato dall'altra parte, adesso fai proprio professore. E poi anche che cosa vuol dire occuparsi di prodotto, concretamente che cosa fai per occuparti di prodotto all'interno di una DMO, perché questa è una cosa. Ai tuoi colleghi ho chiesto spesso, proprio per aiutarli a uscire, perché siete diventati troppo professionali, non è il linguaggio. Fai un po' capire a chi viene dietro di te, ma la mattina quando ti svegli e bevi il caffè, cos'è che ti porti in ufficio contento? Perché pensi che farai cosa? Sì, ma allora DMO sicuramente, parliamo di destinazione, quindi di un'area territoriale. DMO sta per Destination Management Organization e praticamente sono queste forme di enti, di enti consortini, in cui principalmente in Italia sono pubbliche, in cui sono appunto i soci fondatori, che sono i comuni, che insieme alle associazioni di categoria creano un ente, creano appunto un consorzio come questo dove lavoriamo, che si è una riguola riviera, che serve per la promozione, la promocommercializzazione di un'area, di una destinazione, detta in maniera... Parliamo poi lo specifico magari della riguola riviera, la riguola riviera appunto è fatta di 18 comuni, in cui come si finanzia questa DMO? Praticamente ogni comune devolve il 15% della tassa di soggiorno, quindi la tassa, dette in maniera modo diretta, è anche entrata in cui si paga il mio stipendio fondamentalmente, quindi diciamo, sono... vengono finanziate così, poi le associazioni di categoria, che danno l'appoggio e il supporto per la promozione, invece ci danno per quanto riguarda alcune strategie da attuare per un periodo medio-lungo, quindi c'è fondamentalmente per la valorizzazione territoriale e terminataria. Io attualmente mi occupo dei prodotti turistici, quindi sono quello che va un pochino a... essendo anche, essendo da un accento con figure, sono neutrale, vado un po' a rompere tutti gli assessori, tutte le... Vado un pochino, vado un pochino, dobbiamo fare, dobbiamo creare, dobbiamo organizzare, valorizzare, e quindi è una DMO nuova, e il primo prodotto, magari lo faccio vedere un attimo così, è che siamo riusciti a creare, appunto, la prima, per esempio, brochure di destinazione, che è la Liguna Riviera, che dà il primo senso di territorio. Quindi ogni territorio, ogni comune è stato contattato e ha voluto dare, diciamo, voce a ciò che effettivamente vuole valorizzare nel proprio comune, quindi ci sono varie attrazioni, attrazioni da non perdere, e si iniziano a creare il primo prodotto di un'area comune, quindi di Vigure a Riviera. E piano piano iniziamo a costruire, ora arriverà uno dei sentieri, ci sarà uno a gusto e sapori, per poi arrivare alla commercializzazione di questi prodotti. Perché prima questi si promuovevano uno per uno donato. Sì? Prima questi si promuovevano comune per comune. Esatto, esatto, diciamo che non c'era una cabina di regia, non c'era... Di solito queste promozioni venivano fatte da o a Sestori che facevano di tutto, o Proloco, che ovviamente, cioè, comunque devo ringraziare sempre chi ci sono, però ovviamente non lo fanno, magari lo fanno come secondo lavoro, come, diciamo, anche passatello per la comunità. Quindi diciamo che a te nello serve appunto per concretizzare un pochino di più la valorizzazione territoriale. Per far comprendere come si costruisce tutto questo, donato, ti chiedo, ma se dovessi raccontare cos'hai fatto oggi o ieri, se vuoi, proprio materialmente, chi ha incontrato, che tipi di situazioni hai affrontato? Oggi ho ricontrollato, perché proprio oggi abbiamo andato in stampa un altro prodotto, che sarebbero i sentieri di una righiera, quindi nasceranno i migliori sentieri di questa zona, e proprio ho contattato il grafico, dobbiamo cambiare quello, il punto 3, la virgola, dobbiamo mettere in inglese, o poi abbiamo contattato una tipografia che stamperà questa brochure, che poi, ovviamente, questa offline, andrà anche online, è prodossa all'estero. Quindi, diciamo, sì, ho contattato... Quindi oggi stavi su alcuni aspetti materiali della comunicazione. Ma, per esempio, se dovessi raccontare la giornata tipo quando vai a negoziare con gli assessori o con le assessori di categoria, come funziona? Beh, innanzitutto far capire che esistiamo, perché non tutti, nonostante hanno... che devolgano il 15%, dalle volte, dicono, siamo lì con la riviera, siamo a Savona, siamo la canna di commercio, stiamo facendo, dico, vari prodotti, quella promozione, quindi cerco di far capire che sono una persona con cui potete parlare per fare un dettaglio più grande, che vada al di là del confine comunale. Quindi cerco di, in base a ciò che devo fare, di far capire questo fondamentalmente. cerco di far avviare anche di Drive, delle volte faccio consulenze anche tecniche di scrivere su Word, su Drive, per co-progettare. Quindi, per noi, siamo, ripeto, nel nuovo visito, un nuovo staff, quindi, per noi, stiamo iniziando a crescere, costruire questa, diciamo, questa DMO, questo territorio. Eh, perché state costruendo anche voi stessi, intanto, no? Ma è una specie di viaggio parallelo. Esatto, esatto. Quanti siete adesso? Allora, parlando proprio così, siamo, c'è, vabbè, il station manager, poi abbiamo la responsabile, diciamo, qui, più interna, e poi noi siamo, tra me siamo tre, siamo io che mi occupo dei prodotti, c'è chi si occupa, appunto, della parte più vertical booking, app, e la parte più tecnologica, e chi sta completamente a promozione, più social, e, di Facebook, che è stato al sito. Diciamo che io cerco di creare, loro poi, trasmettono ovunque. Ho capito. Se nel frattempo ci ha raggiunto anche Pietro. Non chiediamo, ciao Pietro, scusate, chiediamo a tutti, mi sentite? Ciao. Sì. Ok, perfetto. Solo una nota, visto che, così, ci ha un po' raccontato subito un primo giro, Donato, non so se qualcuno di chi ci sta seguendo ha qualche curiosità da chiedere subito, oppure, prima che Pietro ci racconti la sua esperienza, se c'è qualche domanda diretta, già che l'abbiamo qui, Donato. Ed è pronto. No. Beh, allora sentiamo un po', continuiamo a scaldare i motori, sentendo anche, salutando, dando il benvenuto a Pietro. Grazie, professore. Ciao. Abbiamo una domanda. Aspetta, aspetta che c'è una domanda. Ah, beh, un attimo. Aspetta, aspetta. Francesca, chiede se, mi piacerebbe sapere, se si focalizza sull'accoglienza. La tua attività è il lavoro di donato. Allora, sull'accoglienza, intendiamo, livello proprio concreto, nel senso, accogliere il turista, oppure il progettare la destinazione per... Sì, sicuramente anche questo, anche questo. Diciamo, noi, ad esempio, la dico per la prova a dire, ma era... Entrambe, entrambe, ha detto. Entrambe. Ok. Voglio anche aprire il microfono... Francesca, se vuoi, sì. Così, Carlo, qui ci fai capire un po' meglio. È un'occasione anche per cominciare a scambiare. Comunque, assolutamente sì, perché, ad esempio, noi, il turista che arriva in qualsiasi comune della Liguna Riviera, in qualsiasi struttura ricettiva, che, in cui si paga la tassa di soggiorno, diamo gratuitamente una card. Questa card, cosa fa? Praticamente, innanzitutto avete, hanno gratis tutto il trasporto pubblico, quella di Liguna Riviera, che ci sono d'accordo abbastanza difficile, con la TPL, che sarebbe l'azienda di trasporto, e in più, cerchiamo di far capire come devono, a tutti gli altri, un'icotrice turismo, in che modo accogliere il turista, in che modo far comunicazione per la presenza della Tourist Card, e in che modo può dirigere, magari, per le esperienze, e per tutti gli diritti che hanno. Quindi, in un certo senso, è collegato anche con la funzione dell'accoglienza, all'interno della destinazione. Magari sentiamo dalla voce di Francesca, esattamente cosa voleva, su dove voleva andare a... Chi ha risposto, Donato, Francesca? Sì, sì, tutto chiaro. Hai, avevi qualche curiosità particolare? qualche tua esperienza, che volevi confrontare? Cosa vuol dire? Sì, perché mi piacerebbe comunque lavorare, tipo negli hotel, e quindi, voglio capire se questo poteva essere, diciamo, il master più adatto. Beh, sì, come avremo modo di sentire, di spiegarvi, questo master è costruito, partendo da una base ampia, che noi sentiamo assolutamente il bisogno di dare, poi c'è tutto un percorso che un po' alla volta ti porta, arrivando poi alla fine dello stage, a essere focalizzata esattamente, se vuoi, in una posizione e in un certo ambito di competenze. quindi Donato è da sempre stato appassionato di questa dimensione, ma hanno frequentato e frequentano e oggi non so, già Pietro lavora nell'ambito dell'hotelleria, abbiamo altri studenti che hanno coperto un po' tutti i rami possibili e immaginabili, per cui sì, quello che era interessante che ti stava raccontando Donato è che nella sua posizione, piuttosto in un rapporto da ente a imprese, si preoccupa che le imprese che non sono cresciute abbastanza nella cultura dell'accoglienza, nella capacità di comunicare, comincino a utilizzare un linguaggio anche comune della destinazione, per cui quando tu pensi alla cura del cliente in hotel, è contemporaneamente anche interessante che il modo in cui lo si fa sia anche tipico e caratteristico di una certa area, un po' come fare una cifra della capacità di accogliere, che verso certi standard deve essere allineata, ma deve mantenere anche le specifiche del modo di accogliere di una zona, di una cultura, quindi rispetto a quello che poteva essere una concezione tradizionale della buona accoglienza, oggi è ricchissimo questo modo di intenderla e anche di declinarla. Sono molto chiaro. Poi volevo fare un'altra domanda, invece c'è, ora, io vengo da una magistrale in comunicazione, quindi questo è l'ultimo anno e mi devo laureare a luglio e già mi sto informando appunto per i master per il prossimo anno e volevo sapere se il fatto che non avessi mai fatto economia potesse essere un problema? Guarda, no, te lo dico, scusate se mi intrometto, ma ti posso cercare che non è il problema. Te lo posso già dire io, Francesca. Non ricordo più, Pietro, tu da dove venivi? Eh, io vengo da un percorso di mediazione linguistica. Perfetto. e Donato invece aveva un percorso in turismo. Un percorso in turismo. Non so se abbiamo, la nostra tutora si è portata dietro anche le statistiche. Sì, le abbiamo qua, le stanno vedendo. Le stanno vedendo. La parola di provenienza delle lauree. in turismo ma pochissima economia io personalmente. Sì, vive delle più grandi branche ma abbiamo avuto fisici, giuristi, ingegneri. Credo uno anche là in conservatorio. sì, sì, lauree in educazione pianoforte ma anche educazione in sport quindi le cose più varie che hanno trovato poi una loro strada. Una delle attività appunto che si fanno al master è quella poi di trovare una strada per quelle che sono le aspirazioni qualche volta scoprire anche che ci sono altre cose che prima non si erano mai prese in considerazione e per cui magari si scopre di avere un pallino insospettato. E quindi non è detto che i percorsi poi siano anche particolarmente lineari cioè non è detto che tutti i laureati in lingue vadano al front office o a qualcuno e Pietro è un caso abbastanza si occupa di numeri e quindi è partito dalla mediazione linguistica. Esatto. Un paio di cose per te Francesca ma anche per chi ci sta ascoltando tutta questa varietà non deve far pensare che noi si è costruito una specie di melting pot e poi succeda quel che succeda al contrario è un percorso che è stato costruito e anche migliorato negli anni con un progetto preciso cioè quello della capacità di mettere assieme background di partenza molto diversi creare uno zoccolo comune in modo che tutti potessero parlare gli uni con gli altri per poi restituire però quello che è una esaltazione delle inclinazioni personali è molto difficile farlo ci abbiamo messo 30 anni a farlo bene e questo master è uno dei più lunghi longevi prodotti che trovi in Italia e si è investito molto anche nel far tesoro dell'esperienza di tutta questa comunità di allievi che diciamo con le loro esperienze ci hanno anche insegnato credo che la comunità adesso sia arrivata attorno a migliaia ormai di masterini e molti sono partiti con i dubbi che avevi tu ma poi lungo la strada hanno trovato diciamo così il modo di esprimere quello che era il loro potenziale e hanno anche contribuito a fare del master quello che il master è oggi ognuno di loro ha lasciato qualcosa in questa esperienza sicuramente sì e sempre poi per finire completare un po' poi lasciamo appunto a Pietro la domanda di Francesca poi l'inserimento come si diceva nella carriera poi è nei diversi settori e dipende da quella che è appunto l'indicazione di interesse della singola persona dopodiché statisticamente per esempio la parte hospitality conta per il come vedi qui come vedete qui per il 40% però poi ci sono altri molti altri inserimenti tutta la parte di eventi per esempio organizzazione degli eventi che siano eventi di tipo culturale sportivo quindi eventi diciamo dedicati più all'asure all'intrattenimento o che siano eventi invece connessi a attività professionali quindi dai congressi tutto questo tipo di incentive tutto questo tipo di attività coprono un altro 20% un'altra parte che forse meno nota è tutto il fronte appunto poi delle OTA e quindi dei vari booking e spedia e soci dentro cui non ci sono solo piattaforme ma ci sono persone in realtà poi dietro a ogni piattaforma e sistema ci sono un sacco di professioni che è molto difficile vedere e per cui come vedete poi l'uscita diciamo così è variegata tanto quanto l'ingresso a seconda di quelle che poi sono le aspirazioni delle persone poi ovviamente ci sono anche carriere molto trasversali rispetto a questo tipo di questo tipo di 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 comparti diciamo per cui ecco non è non è neanche raro che qualcuno passi dall'ospitality all'ota dagli eventi all'ospitality o dalla consulenza a occuparsi per esempio di tour operating non ci sono questo forse è una anche delle cose più divertenti di questo settore che non è chiuso è molto trasversale quindi non è chiuso a una carriera necessariamente verticale insomma offre stimoli di tutti i generi e possibilità di scambio e di evoluzione anche diciamo così in orizzontale non solo non soltanto in verticale noi abbiamo abbiamo sempre cercato di 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 costruire il master nel modo che questa opportunità più ampia di di spostarsi di incrociare venisse esaltata infatti se andate a vedere nel panorama nazionale e non solo ci sono anche proposte invece di master verticali che ti specializzano solo e unicamente in un settore o in una mansione noi non l'abbiamo mai fatto e anzi ne abbiamo fatto un unicum nostro per due motivi uno perché come diceva Federica è il settore stesso che offre opportunità no non solo chiuse verticalmente ma di di muoversi di cambiare di incrociare e l'altro motivo è che noi abbiamo sempre anche creduto che per fare bene il mestiere in uno di questi comparti devi conoscere comunque la lingua il linguaggio le pratiche anche degli altri perché nel turismo si lavora con gli altri l'albergo lavora con l'OTA ma lavora con l'organizzatore degli eventi chi fa ristorazione si incrocia con le guide e solo chi ha una cultura specialistica da un lato ma anche vasta dall'altro può veramente lavorare bene su questo è uno dei plus che diamo esatto quindi io adesso lascerei la parola a Pietro e gli ribalterei un po' le domande che abbiamo un po' fatto anche a Donato e che sono poi quelle che insomma ci vengono ci vengono sempre fatte da da chi ci approccia per capire se intraprendere o no questo percorso e che sono un po' le ha già riassunte Francesca in realtà dato il mio background posso la slide forse no metti la slide iniziale così dato il percorso posso intraprendere una carriera in questo settore dove riesco arrivare e in questo percorso come il master può aiutarmi rispetto a altre tipologie di 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 formazione o di strada insomma che possono essere andare a lavorare direttamente per esempio senza mettere uno step tra il il master oppure nel caso di chi è già impiegato continuare nella sua carriera senza senza aggiungere formazione te le te le passo ok sono queste domande sono queste domande che vedo qui sullo schermo esatto raccontaceli tramite insomma ovviamente la tua storia e il tuo percorso ok allora io provengo da un percorso universitario fondamentalmente di lingue ho fatto mediazione linguistica a Palermo e comunque diciamo sempre pensato che le lingue potessero essere il mio futuro non sapevo che sarei finito insomma a lavorare fondamentalmente per gli hotel cioè non era in quel momento dopo la laurea non era realmente diciamo quello che avevo pensato potesse essere il mio futuro però dopo la laurea mi si è presentato un'occasione di lavoro a Firenze e da qua è iniziata a crescere iniziata a nascere insomma questa mia diciamo sorta di passione per il mondo alberghiero e dopo questa esperienza di lavoro ho deciso di intraprendere questo master perché sentivo che mi mancavano un po' delle basi un po' delle fondamenta che pensavo di apprendere proprio grazie al master e così infatti poi è stato e grazie a questo oggi mi ritrovo a far parte di Roccoforti test per cui mi trovo molto bene sono già qua da un anno e mezzo circa e quindi sicuramente il percorso precedente dà un'indicazione però come avete detto voi non è che necessariamente diciamo un percorso poi debba proseguire in un determinato modo nel corso degli anni io personalmente ho avuto modo di scoprire nuovi lati nuovi aspetti di me stesso che mi piacevano e ho portato avanti fino ad oggi insomma oggi io lavoro sì in un ufficio cioè io lavoro sì per una compagnia alberghiera lavoro sempre nel mondo del turismo però se mi avessero detto anni fa che sarei finito oggi a lavorare in un ufficio dove guardiamo fondamentalmente solo numeri non ci avrei creduto però sono queste sono delle cose che chiaramente si affinano si si stanno si apprendono nel corso diciamo del proprio percorso appunto il master poi prevedeva un modulo di revenue management l'avevo già fatto un po' nell'hotel in cui lavoravo prima e quindi insomma è stato poi una scelta quasi facile poi ho avuto anche giustamente la possibilità grazie a Roccoforto Terzi di poter fare lo stagio direttamente qui e quindi cioè è andata poi bene sotto questo punto di vista però sicuramente il percorso precedente è determinante però non è quello che poi diciamo come posso dire vincola esatto non vincola niente cioè ti dà una base però non significa che poi il percorso deve andare necessariamente in una direzione io durante il master per esempio ho avuto modo di confrontarmi di approcciarmi con tantissimi moduli diversi tutti stimolanti ovviamente sta poi ad ognuno capire nel proprio io secondo me dove meglio si può collocare dove meglio si vede in base alle proprie ambizioni in base al proprio background ovviamente perché il background chiaramente non è fondamentale per prendere una decisione è bellissima questa cosa Pietro dove ti vedi no? dove ti vedi all'inizio forse non ci vedi un po' alla volta con le esperienze che si fanno la crescita che c'è un po' alla volta metti a fuoco è andata un po' così anche per te credo assolutamente sì infatti io venivo chiaramente con sì un'esperienza di mediazione linguistica un'esperienza di lavoro in un hotel dove facevo fondamentalmente di tutto al front desk però una volta arrivato al master chiaramente mi sono trovato in una situazione in cui eravamo continuamente bombardati da stimoli diversi che provenivano veramente da realtà completamente diverse e questo poi dà modo ad ognuno di noi di capire dove meglio si vede appunto nel giro di un anno cinque anni dieci anni poi dipende da ognuno ovviamente ognuno si fa poi una sorta di domande interne per capire realmente dove può arrivare però sono stimoli che chiaramente servono proprio per questo quindi si può arrivare ovunque fondamentalmente nel senso idealmente si può arrivare ovunque basta solo riuscire a capire non è facile però basta riuscire a capire dove incanalare diciamo questo tipo di ambizioni di conoscenze di energia con i ricordi che hai quali sono stati così le attività o i momenti dentro al master che tu ricordi che ti abbiano aiutato di più a capire chi eri e a dove andare se dovessi pensarci quali sono tra le tante cose che abbiamo fatto quelle che ti hanno aiutato di più dall'aula alla ricerca dello stage al live project alle testimonianze cos'è che secondo te ti ha aiutato nel tuo caso a metterti a fuoco ma molto probabilmente poi è stato il modulo di revenue management che abbiamo fatto avevo già avuto diciamo lavorando in un hotel precedentemente avevo avuto modo in maniera molto minore di approcciarmi a questo nuovo diciamo a questo ramo dell'ospitalità chiaramente quando poi sono stato diciamo c'è stato il modulo di revenue management ho avuto modo di sviluppare ancora di più questa sorta di cioè sentivo in me quella voce che diceva ma guarda che forse questa è la cosa che tu vuoi fare cioè va bene il mondo alberghiero però non c'è soltanto il front desk appunto c'è tanto altro nel mondo alberghiero e questo diciamo è stata una cosa che chiaramente mi ha fatto è stato un punto che mi ha fatto effettivamente riflettere molto su dove volevo cercare il mio stage soprattutto e come ti ricordi il percorso per trovare lo stage c'è stato anche lì sono sempre storie c'è stato un bel dubbio c'è stato un po' di diciamo la situazione non era chiara da subito avevo diciamo già fatto un colloquio con un'altra azienda che venne come testimonianza al master però diciamo un colloquio non è che vuol dire necessariamente che deve andare per forza bene è stato un colloquio ci siamo confrontati non ci siamo trovati e quello probabilmente è stato anche un altro momento importante del master cioè mi ha fatto capire che forse quello che stavo cercando in quel momento non faceva per me o quello che mi si è rappresentato davanti non era la cosa giusta per me in quel momento e quindi il modulo di revenue management è questo colloquio che non andò esattamente come come in teoria dovrebbe andare un colloquio ora nel senso un colloquio di solito si spera che vada bene dentro questo quello che è importante forse ricordare per tutti perché noi lo diamo per scontato e ci siamo stati in mezzo è che c'è stato un colloquio il punto è questo vorrei che Federica spiegasse un momentino uno di quelli che è una di quelle che le cose più importanti che facciamo cioè costruire il sentiero che porta a fare lo stage non in maniera settica cinque minuti l'incrocio di due carte ma è un processo che dura mesi e soprattutto dove l'allievo ha possibilità un po' alla volta di mettere a fuoco come dici tu incontrare davvero l'azienda e si devono piacere entrambi perché lo stage poi si effettui questa è una cosa a cui teniamo parecchio perché non in tutti i luoghi gli stage sono curati in questo modo cioè anche questa è una costruzione tante delle cose che facciamo nel MAS sono una costruzione ci vuole tempo ci vuole pazienza però è una crescita sempre anche quindi è un'opportunità che viene costruita tagliata su misura non è semplicemente un incrocio di qualche domanda cartacea e di qualche offerta cartacea di qualche azienda no no a quanto tempo ricorda sì Federica più o meno quando partiamo con il processo di definizione dello stage sì brevemente poi c'è anche una domanda che poi vi trasferiamo per Pietro il processo inizia diciamo almeno tre mesi prima dello stage stesso dell'inizio dello stage stesso quindi si comincia è abbastanza lungo si comincia con una valutazione di quelle che cominciano a essere le idee insomma di inserimento fatta insieme anche come dire tenendo conto di realisticamente di quelli che sono poi le situazioni vincoli nel senso che non sempre ci sono tutti i tipi di imprese in tutti i territori e quindi questa è una questione che noi possiamo dare e che è difficile da vedere dal di fuori e quindi diciamo in questo senso si viene anche guidati sull'incanalare queste aspirazioni e queste attitudini nel modo giusto per le ostage e poi anche per quelle che sono le aspirazioni più di lungo termine di carriera ovviamente lo stage è l'inizio dopo questa fase inizia la fase diciamo dei colloqui con con le imprese e come diceva il professore prima bisogna che ci si piaccia insomma e quindi vengono organizzati diversi colloqui poi anche qui le storie sono molto personali c'è chi si ama al primo incontro e la storia finisce lì e c'è chi invece fa più di un colloquio e quindi anche questo poi è una strada molto personalizzata c'è chi cambia idea durante i tre mesi perché non possiamo fare tutto nei primi due ovviamente e quindi nei primi due tre e quindi poi man mano emergono nuovi stimoli e quindi poi si esplorano nuove nuove cose nuove e nuove possibilità appunto si scoprono anche strani pallini dunque per Francesca invece con calma ce le spiega esatto dietro può rispondere a voi the floor is yours esatto Francesca falle pure tu direttamente ok allora volevo sapere intanto cosa avevi trovato di diverso rispetto all'università perché a parte il fatto che ovviamente era un settore differente da quello che hai fatto in generale cosa hai trovato di differente all'interno di organizzazione di approccio anche perché magari l'università appunto è molto diciamo teorica e manca spesso la pratica cioè magari poi entriamo nel mondo del lavoro e comunque dici non so mettere mano non so cosa devo fare perché magari a livello teorico queste cose le sopero nell'ambito pratico ecco non ho mai avuto modo di poter veramente approcciare e metterci mano e quindi ma sapere insomma come lei come l'hai riuscita questa cosa allora il master chiaramente ha una base teorica questo penso che sia importante dirlo però cioè quello che penso che comunque sì noi abbiamo fatto chiaramente delle esercitazioni pratiche mi viene mi viene da pensare ovviamente ai vari test ogni fine modulo che facevamo comunque i modi in cui ci preparavamo per i test di fine modulo mi ricordo per esempio quello di di statistica che è stato molto interessante anche il test stesso comunque anche il modo in cui ci siamo ci siamo preparati per questo per questo test ovvero tutto lo studio delle formule come si calcolano determinati indici come si calcolano determinate cose che poi appunto vengono presi come punti di riferimento io quello che ti posso dire è che dalla teoria devi cercare di fare tutto il possibile cioè tutto quello che tu ritieni utile per te anche se è trasmesso in maniera teorica in maniera più o meno pratica poi diciamo i modi di vedere queste cose possono essere tanti secondo me però la cosa importante è che secondo me tu debba fare tutto quello che tu ritieni importante per il tuo futuro per quelli che sono gli stimoli se magari se ti scriverai cioè capirai insomma riterrai importanti per quelle che possono essere appunto il tuo futuro la tua strada chiaramente ci sono delle parti teoriche è chiaro non può non essere così perché anche il master stesso nel senso le cose che le parti pratiche cosa ricordi dei momenti in cui invece si è toccato con mano beh hai fatto un live project che è stato tutto infatti stavo pensando a questo abbiamo fatto il live project che di solito avviene normalmente verso la fine del master serve appunto per mettere in pratica tutto quello che è stato fatto prima al fine di raggiungere un obiettivo appunto quindi per esempio dover fare dei questionari quindi dover strutturare un questionario avevamo avuto le lezioni teoriche e poi stava a noi riuscire a impostare un questionario per esempio per avere le risposte che ci servivano o organizzare magari le interviste con i manager confrontati con i consulenti anche esatto esatto ci sono state varie cose durante il master che chiaramente si fanno in maniera teorica e poi devono essere per forza fatte in maniera pratica per esempio appunto il live project mi viene da pensare tutta una raccolta di dati che abbiamo dovuto fare inizialmente per capire se il nostro progetto potesse andare bene o meno per quello che ce l'ha stato richiesto e quindi c'è stata una fase di raccolta dati poi c'è stata un'altra fase di lavorazione dei dati cioè far sì che quei dati ci comunicassero qualcosa sempre per quello che è il nostro obiettivo poi finale per quello che ce l'ha stato chiesto diciamo durante il live project perché vi era che è stato chiesto molto poi Federica spiegherà perché questi live project in realtà sono delle specie di commesse vere fatti da un'impresa vera commissiona la soluzione di un problema l'invenzione di un prodotto la ristrutturazione di un ristorante la soluzione di un problema noi per esempio avevamo questo mi viene da pensare questo sì e quello che è pura pratica sulla propria pelle è anche l'emozione lo stress che provi andando a fare il briefing con i manager che cominciano a spiegarti e poi si aspettano da te che tu istruisci il problema e una volta che hai fatto come raccontava Pietro le tue misure in quel caso le tue le tue valutazioni devi andare a proporle e sentire la reazione discutere con questi manager io insegno management da molti anni non soltanto nel turismo e una delle cose che bisogna apprendere anche facendo è quella che è proprio il dialogo la capacità di sentire la responsabilità qualche volta anche un pochino a gestire il proprio stress perché sono in qualche maniera vengono riproposte situazioni di lavoro a tutti gli effetti e questo è un elemento che ti fa crescere moltissimo Federica mi pare che abbiamo ricordato qui i principi quelli live project degli ultimi che si vede che sono avventure abbastanza diverse tra loro anche sì certo possiamo scusate se magari intervenire no no anzi vai vai Donato sicuramente ad esempio io ho fatto turismo non la Trennale ma anche la Magistrale però ho ripreso magari anche delle volte delle stesse materie però con tutto un altro approccio comunque c'è un approccio molto più diretto delle volte concreto quindi ad esempio magari ho fatto già magari contabilità ho già fatto magari il bilancio però un conto quando poi lo fai con Duchini che magari di B&B o Tensi ma ne ricordo che avevamo fatto oppure non so abbiamo fatto oppure con Italian Way insomma secondo me è un po' l'approccio anche in modo siete pochi e potete fare tutte le domande ecco saprei molto a te fare le giuste domande secondo me è fatto cioè più oltre l'approccio devo dire sì chiariamo per tutti che Duchini sta per Valerio Duchini amministratore delegato e adesso responsabile dello sviluppo in America di B&B Hotels e che è noto per come dire andare sull'applicazione di tutta la parte di contabilità e quindi di portare poi un caso un caso vedo e chiedere risposte vere sulla base di budget e bilanci e quindi questo è un esempio giustamente donato di poi come quello che uno ha imparato in teoria relativamente in teoria poi trova un'applicazione immediata in questo caso sulla realtà quindi si vede che quello che viene insegnato è roba che serve diciamo così e non Donato ha usato per la prima volta oggi la parola approccio e invece questo è estremamente importante ti ringrazio e ve l'ho ricordato Donato perché puoi prendere in mano una serie di temi addirittura una disciplina intera e bisogna vedere però come decidi di affrontarla l'approccio che insegniamo è un approccio fondamentalmente di chi deve comprendere e prendere decisioni e poi agire queste tre cose comprendere decidere e agire e farlo però in modo professionale perché un'altra delle cose ti ricordi Donato in cui insistevo molto ci sono quelli che si improvvisano ci sono quelli che queste capacità le acquisiscono soltanto con l'esperienza però con l'esperienza i tempi sono molto lunghi e molto spesso si è molto legati al tuo contesto piccolino se devi spaziare ti manca e il terzo modo è quello di apprendere in una prospettiva ampia che mescola il provare a confrontarsi in concreto ma anche lo studio alla fine è venire a conoscere altre esperienze e altri mondi e quindi l'approccio che abbiamo è un po' questo un approccio che ti presenta le cose pensando che tu domani se non subito in aula e si comincia a farlo un po' devi prendere coscienza e capire di conseguenza decidere qualcosa e quindi agire questo è l'approccio sì eccoci quindi appunto poi questo approccio diciamo poi viene declinato su quelle che sono tutte quante le diverse tipologie di aziende e tipologie di poi diciamo discipline quindi di punti di vista e prospettive sulle aziende che si si affrontano durante il master che anche qui sono molto trasversali quindi parliamo di risorse umane parliamo di gestione delle risorse umane parliamo di management parliamo di marketing e ognuno di questi poi grazie ai testimoni che vengono dalle imprese e che di solito e anzi che sempre sono molto disponibili nei nostri confronti molto disponibili perché noi gli chiediamo solo di presentare l'azienda ma di appunto anche presentarci un pezzo di settore come stanno affrontando alcuni problemi quindi non soltanto dire quanto sono carini e belli e perché dovremmo lavorare per loro questo quindi questo approccio viene reclinato così da quest'anno poi abbiamo alcune anche novità questa parte ce la ce la teniamo stretta perché pensiamo che poi sia una caratteristica molto molto importante però abbiamo per quest'anno proprio proponiamo una formula che è molto più flessibile questo per dare modo anche a chi magari ha già un impiego e un po' di difficoltà a lasciarlo di frequentare il master quindi comunque ha un ritmo di vita o una situazione propria dove la mobilità la necessità di risiedere fuori potrebbe essere un ostacolo quindi abbiamo costruito una formula molto ci abbiamo messo due anni a progettarla anche mentre si lavorava nelle edizioni precedenti una formula che non perda nulla in termini di approfondimento di sperimentazione come posso dire in prima persona però anche utilizzi quello che è stato un po' l'eredità di tempi difficili e c'è quindi anche l'utilizzo di strumenti di lavoro a distanza e di interazione a distanza che utilizziamo per snellire un po' la mobilità se vogliamo e poi Federica magari ve lo spiegherà meglio ma una delle cose anche che ci ricordiamo sempre di dire è che i tempi che abbiamo vissuto ci hanno insegnato ma erano anche tempi ormai maturi che i nostri studenti devono passare con estrema disinvoltura a forme di interazione e linguaggi diversi senza neanche accorgersene quindi si lavora in presenza si lavora in remoto si lavora in modo interattivo si lavora in modo sincrono assincrono perché il mondo delle imprese oggi chiede di essere preparati e molto elastici anche mentalmente e quindi la formula nuova risponde un po' a tutte queste esigenze che sono quelle che non tanto di ieri ma di oggi e di domani e quindi appunto alternerà lezioni incontri online con quattro settimane intensive di immersione totale sostanzialmente che non saranno tanto in aula ma concentreremo lì poi visite a imprese momenti di attività con magari altri studenti altre classi a livello internazionale alcuni aspetti dei dei live project che comunque rimarranno una delle attività fondamentali e appunto sul fronte immersivo del del corso e quindi saranno diciamo anche queste un po' più mobili così sul territorio a Venezia ma non solo a Venezia ovviamente quindi andremo a incontrare direttamente le imprese e anche a vedere un po' gli ambienti in cui appunto poi questa attività e le diverse attività si si svolgono quindi questa è un po' la novità la novità di quest'anno tenendo salda l'idea del career service di cui abbiamo già parlato quindi del supporto della guida in qualche modo all'introduzione alla carriera o allo sviluppo della carriera se c'è già un'esperienza precedente o un'esperienza in corso e il fronte diciamo della qualità della formazione che sempre contraddistingue questo corso e ovviamente tenendo saldo l'idea dello stage posto che anche qui se ci sono già attività o carriere in corso per noi è possibile riconoscere come l'attività lavorativa come stage e quindi comunque riconoscere i crediti relativi pur che ovviamente sia coerente con quello che è il percorso abbiamo reso tutto più agile se volete la professore vi dico adottando un criterio che si conosce bene nello sviluppo della qualità investi meno in quello che dà meno valore investi di più in quello che dà più valore per cui abbiamo snellito dove non valeva la pena di concentrare troppo gli sforzi nostri degli studenti quindi invece abbiamo investito moltissimo dove ricevete diciamo così l'aspetto più significativo dell'esperienza e dell'apprendimento ovviamente poi per Francesca che era preoccupata ma torno fra i banchi a far teoria no il master va anche nei luoghi dove si lavora dove ci si confronta e provi una situazione di full immersion nei temi e questo credo sia un valore aggiunto molto forte sicuramente sì io non so se non ci sono ulteriori domande magari visto che abbiamo trascorso già un'oretta mi pare che le cose essenziali le abbiamo un po' esplorate vi darei magari la nostra disponibilità ok per qualsiasi dubbio chiarimento ulteriore scoperta di quello che possono essere le professioni contattateci avete la possibilità dal sito anche di prenotare un colloquio un altro colloquio personale se volete in cui magari si va più in approfondimento su quello che è la vostra la vostra storia nello specifico le vostre le vostre idee le vostre ambizioni nello specifico i contatti sono quelli che vedete qui ma insomma che immagino abbiate già già visto sul sito comunque trovate tutto e anche un sacco di contenuti ulteriori se volete esplorare altre professioni che qui non abbiamo avuto modo di di conoscere di esplorare ci sono anche tantissime altre storie dei nostri allievi e le storie anche un po' dei project work dei vari life project che abbiamo fatto appunto anche quello di Pietro che si è scontrato con lo sviluppo di una azienda che aveva idea di sviluppare la propria piattaforma verso appunto delle applicazioni turistiche non è tutt'altro che facile come sfida e quindi potete un po' esplorare che cosa che cosa è successo nei vari anni vi ricordiamo che le domande di ammissione sono da presentare entro il 17 novembre anche lì sul sito trovate tutte le istruzioni il link a cui andare perché poi bisogna ovviamente presentare la domanda tramite l'università a Foscari ma su questo siete tutti super attrezzati molto meglio di noi perché conoscete benissimo tutte queste tutte queste piattaforme ecco quindi questi sono poi così due flash su quelle che sono su quelle che sono le scadenze e su dove potete su dove potete contattarci non abbiate timori problemi paure insomma siamo siamo qua pronti insomma anche perché una parte della nostra missione diciamo così in qualche modo è anche quella di far conoscere a tutti anche se poi magari fanno delle altre scelte un po' meglio le opportunità e che cosa c'è dentro dentro a questo a questo settore che qualcuno nell'altro Open Day ha definito più che altro un universo ah sì bene un saluto anche da parte mia e con alcuni di voi ci rivedremo spero e quindi vi auguro una buona serata e una buona esplorazione di questo mondo che è